La ritualità dei saldi, nonostante il commercio online sia sempre più invadente, rimane una consolidata abitudine. Sabato 7 luglio è stata la partenza dei saldi estivi nelle marche, con le categorie e di commercianti come sempre divisi tra chi vede il bicchiere mezzo pieno per salvare gli incassi di una stagione partita un poco sotto tono e chi invece lo vede mezzo vuoto per i mancati incassi a prezzo pieno a stagione estiva ancora nel suo vivo per turisti e vacanzieri. I marchigiani con una spesa stimata a testa di poco inferiore ai 100 euro si sono però tuffati nei saldi a bomba a giudicare dai commenti a freddo degli operatori commerciali. Anche a Fano questo trend è stato rispettato, complice anche l'orario di chiusura prolungato. Umori buoni tra gli esecenti del centro, nonostante scontrini alla mano, una leggera flessione rispetto allo scorso anno c'è stata, ma nella sostanza, una buona partenza. Allora, com'è andata questa prima o fine settimana di saldo? E' andata molto bene, c'è stata tantissima gente e siamo stati molto contenti della serata. Quali sono gli articoli che sono andati per la maggiore? Ovviamente gli articoli quelli più scontati, maglietta 2,99 e vestiti insomma 9,99 e siamo rimasti molto contenti. Le donne vantano sempre il primato degli acquisti, sempre la ricerca del capo che hanno visto magari in precedenza in vetrina e di cui non possono assolutamente farne a meno, ma anche gli uomini sono ormai su questa lunghezza d'onda. Prima o fine settimana di saldi, com'è andato con considerazioni? Fortunatamente siamo molto contenti, ecco. Sperando che questa cosa duri ancora, primo sabato è stato un bel primo sabato dei saldi. Oggetti più gettonati? Noi abbiamo l'abbigliamento, borse, anche tanti accessori, pantaloni, bermuda, magliette, i nostri articoli insomma. Più donne e più uomini? Ma si è visto anche molto uomo, ecco, si è venduto, ecco, molto uomo, molti ragazzi, poi noi fortunatamente abbiamo anche il bambino che ha risposto molto bene. Siamo contenti. Siete contenti, soddisfatti di questo primo sabato? Sì, sì, sì. Cosa è andato di più? Le cose più scontate. La ricerca dell'occasione. Sì, 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 senz'altro. Allora, le scarpe, oltre all'abbigliamento, è un punto saldo dei saldi. E com'è andata? Come primo giorno dei saldi siamo rimasti contenti, anche meglio dell'anno scorso. Speriamo la settimana che sia proficua. Più uomini o più donne hanno acquistato? Sempre più donne. Più donne? Sempre più donne. La data, come data di inizio saldi, troppo presto, troppo tardi? La data è troppo presto. Lo sappiamo già da diversi anni che è presto. Slittarla verso i primi di agosto. Al mieco? No, primi di agosto. L'idea.